Un allarme per le carenze di personale di cui soffre la Polizia Municipale a Pistoia. A lanciarlo è stato il Sindacato Unitario dei Lavoratori Polizia Locale, che è l'organizzazione autonoma più rappresentativa a livello nazionale per questo settore. La situazione a Pistoia è particolarmente grave, anche per questo abbiamo lanciato questa allarme, perché si pensi che già l'amministrazione nel 14 ottobre 2019 aveva riconosciuto una carenza organica tale che hanno approvato una mozione con la quale indicavano al Sindaco di fare assunzione e portare il rapporto agenti-popolazione residente 1-800 come numero ottimale. Voleva dire avere un corpo di 112 persone, oggi ne abbiamo solo 66, quindi una carenza impressionante oserei dire per quanto è grave. Le conseguenze poi sul funzionamento del corpo quali sono? Come si può ben comprendere, molto importanti. Tenete conto che Pistoia è organizzata su quattro turni, H24 vuol dire un turno di mattina, uno di pomeriggio, uno nel serale e uno nel notturno, quindi dobbiamo dividere il personale in queste quattro fasce. Con un numero così esiguo ci troviamo in situazioni in cui a volte non si riesce a mettere fuori il servizio completo, quindi avere un operatore in centrale e la pattuglia sul territorio. Di conseguenza i cittadini restano assolutamente senza alcun tipo di servizio, in particolar modo per i rilevi sinistri stradali che sono molto importanti e con la legge sull'omicidio stradale a volte richiedono particolare attenzione per le situazioni che si generano. Crea problemi anche nel rapporto di collaborazione che normalmente abbiamo con la Questura e le altre forze dell'ordine, perché ci viene chiesto di aiutarli a coprire il territorio, soprattutto quando ci si parla di assembramenti rispetto delle norme Covid. Ecco, una pattuglia solo di due agenti, quando si riesce a metterla fuori, non potrà mai intervenire su assembramenti di centinaia di persone. Pistoia, è un'eccezione nel quadro toscano o è una situazione diffusa? La Toscana è un po' a macchia di leopardo, ci sono amministrazioni che hanno più attenzione verso la polizia locale e di conseguenza verso la sicurezza dei cittadini, perché non dimentichiamoci che la polizia locale è il primo presidio di sicurezza sul territorio, quindi abbiamo amministrazioni dove abbiamo un corpo ben composto e quindi servizi ben completi. Situazioni un po' più gravi, notoriamente sono i piccoli comuni ad avere difficoltà ed è più comprensibile, mentre da un capologo di provincia come Pistoia ci sospetterebbe più attenzione, invece non è così.